Da Francesco Pannofino a Massimo Ghini, passando per Paolo Ruffini, Marina Massironi e molti altri, sono i nomi che daranno vita alla nuova stagione teatrale di Cannosa di Puglia all'interno del Teatro Lembo. Sette gli appuntamenti della rassegna 2023-24 che prenderà il via il 22 novembre. Il programma è stato presentato proprio all'interno del Teatro Cannosino alla presenza di Teatro Pubblico Pugliese. L'obiettivo è quello di rendere la cultura uno strumento che possa educare la cittadinanza alla bellezza. Mi colpisce molto quando si dice che un euro investito in cultura genera pil, ma genera soprattutto crescita e mi colpisce anche quando si dice meglio riparare una strada che aprire un teatro per una stagione di prosa. Mi verrebbe da dire che oltre a riparare le strade occorrerebbe riparare anche i cuori e le menti delle persone. Un appuntamento per ogni mese sino ad aprile 2024, doppio spettacolo solo nel mese di marzo. L'intero programma è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cannosa, così l'amministrazione vuole rilanciare il ruolo del teatro in città. Io credo che questa sia la strada che la nostra città deve continuare a percorrere. Per la città di Cannosa la cultura è un'opportunità, oltre che è una fonte, così come ha detto il nostro assessore alla cultura, educativa per le scuole ed è anche un luogo di intrattenimento dove soprattutto nel periodo invernale, quando le strade sono deserte, il fatto di avere contenitori aperti, importanti, che possano essere luogo di aggregazione diventa fondamentale. Non solo spettacoli per adulti ma anche per i più giovani, secondo l'assessore alla cultura e all'istruzione Maria Cristina Saccinto è fondamentale far comprendere il ruolo del teatro ai più piccoli. Abbiamo in parallelo una rassegna, la scena dei ragazzi, la rassegna per i giovani. Quest'anno abbiamo iniziato pensando anche ai bambini della scuola dell'infanzia, per cui abbiamo uno spettacolo dedicato ai più piccoli, perché è giusto che sia così. Dobbiamo aprire le porte di questo teatro anche ai piccoli, i ragazzi devono essere, i bambini devono imparare anche a vivere questi luoghi.